La prima volta di un DJ. Ah, ve la ricordate eh? O state per provare questa sensazione? Amici ma soprattutto amiche di SOS4DJ, sono Claude. Quanti di voi si ricordano come è andata la prima volta? Gli errori, le sensazioni, che cosa avete provato? Le paure, l'ansia, la prima traccia messa, avete dormito o non avete dormito, l'adrenalina in corpo, il nervoso, l'eccitazione, l'urlo della folla, brrrr, brividi. Che bella la prima serata, ma anche che ansia. Sì, infatti non siamo tutti uguali perché chi più, chi meno, di fronte alla prima data ufficiale davanti ad un pubblico vero, non in streaming, quindi si sente un misto di adrenalina e ansia in corpo che è difficile da descrivere se non si è provata questa sensazione. Sensazione che prende anche spesso dopo molte date, con effetti diversi, ma prende. Molti di voi che mi ascoltano ci saranno passati e sanno bene di cosa sto parlando. Una frenesia unica ed una smania di far bene e dimostrare il nostro valore che non ha precedenti. È diverso dal sostenere un esame, è diverso da una finale di playoff della tua squadra preferita. Ecco, potevo fare un altro esempio, ora mi vai a girare il coltello nella piaga. È molto di più in tutte le sue sfaccettature, anche perché finalmente sei tu solo davanti a tutti, con la tua musica, la tua energia e la tua arte. Ragazzi, questa sensazione non ha uguali e solo chi l'ha provata può capirla. Ragion per cui vi esorto a scrivere le vostre esperienze reali nei commenti qui sotto, che siano di aiuto, di monitor, insomma di tutto quello che può servire per tutti i nuovi DJs che devono ancora fare la loro prima data e che invidio un po' per la botta che ti dà questa emozione. Prima di consigliarvi un po' di dritte per la prima data e raccontarvi esperienze, vi ricordo dei corsi della SOS for DJ Academy per DJ e DJ Producer. Lezioni private online one to one solo con il sottoscritto e nessun'altra persona. Corsi, lezioni e consulenze private per chi ha l'inizio del percorso, per chi è già bravo e vuole migliorare determinati aspetti per crescere e per chi vuole spiccare il volo verso il professionismo. Potete contattarci tramite il sito ufficiale compilando il form della sezione contatti oppure tramite le nostre pagine social, ma in privato solo per chi vuole info e appuntamenti su tutte queste. Per tutti gli altri e le altre vostre domande potete lasciare nei commenti del video relativo al vostro problema. Anyway, la mia prima serata in discoteca è stata proprio di Capodanno di parecchi anni fa, anzi per San Silvestro perché si usava a dire il 31-12, è San Silvestro, anche a me piace dirlo così. Per caso, perché era saltato il DJ Resident del locale che aveva litigato col proprietario ed allora fui chiamato io, che non mi aspettavo per niente, che sarebbe stato il mio turno, sarebbe toccato a me. Mi ricordo ancora che mi tremava la mano così tanto che non riuscivo a appoggiare bene la puntina del giradischi sul primo disco per iniziare. Poi ho ispirato forte, è partito Falco Rock Me Amadeus e tutto è iniziato. Ma allora, come agire quando si avvicina la prima uscita ufficiale? Facciamo questo decalogo, dieci cose che dovete ricordarvi bene. La prima, caricatevi bene, ossia preparatevi tecnicamente, musicalmente, su tutto ciò che avete in testa, allenandovi bene, su ciò che pensate di andare a fare. Dico, pensate perché può essere che ci sia un margine di cambiamento. Due, non responsabilizzatevi troppo. Non date troppo peso a questo evento, a questa prima data. Ci deve essere la giusta adrenalina, ma non stressatevi all'idea che possa andar male. Molto dipenderà dal punto 1, se l'avete preparato in tutti i suoi aspetti e bene. Terzo punto, è il primo treno che passa. Come dico sempre, c'è un treno per ognuno di noi. L'importante è saperci salire e salire nel modo giusto. E speriamo che non sia l'ultimo. Ma dovete far sì di mettere la vostra firma indelebile subito alla prima occasione. Ergo, mostrate la vostra vera faccia con i giusti compromessi che potrebbero esserci, ma facendo di tutto per far star bene il pubblico. Questo non vuol dire zerbinarsi all'ennesima potenza. Lo aggiungo come postilla. Quattro, mantenetevi calmi. Fate meditazione, rilassatevi, ma non troppo mosci e paurosi e nemmeno troppo esuberanti. Soprattutto troppo bevuti o qualcos'altro per esorcizzare la paura della prima sera. Questo mai, dovete essere molto lucidi. Cinque, informatevi su tutto ciò che riguarda la serata, ma non ascoltate troppo i consigli altrui o di colleghi su quella location. Tenete di conto, tenete lì, fate tesoro, ma se capite che è necessario altro, provate a tracciare il vostro solco. Sei il vostro stile, inconfondibile. Ognuno dovrebbe avere il proprio, dico dovrebbe perché non sempre, anzi molto spesso sento cloni dei cloni dei cloni, e anche se si ispira a qualche altro DJ o a questo o a quel personaggio, ricordatevi sempre di metterci del vostro. E mai copiare paro paro a pappagallo. Siate voi stessi e mai il clone di qualcun altro. Ricordatevi che il clone è sempre una copia, e come copia non sarà mai originale, che resterà sempre al primo posto. Sette, ed a tal proposito mai copiare una sequenza, una playlist, un ordine di un eventuale set altrui, che secondo voi è fortunato, ha funzionato, o funziona in altri posti ancora peggio. Incamerate le info, ma come sopra, fatele a vostra immagine e somiglianza. 8. Se avete un amico o un'amica del cuore, insomma uno di cui vi fidate veramente, ma vero eh, non un sanguisuga qualsiasi eh, portatelo con voi, ma ve la dovete sentire voi. Se preferite star da soli, significa che è meglio così e sarete più concentrati. Se invece vi fa piacere condividere insieme a questa persona, rendetelo partecipe. 9. Se fate pubblicità, non fatela troppo in maniera spaccona, ma soprattutto la prima sera, solo per creare l'attesa. Questo è quasi sempre controproducente, anche se non è la prima sera. 10. Per chiudere, importantissimo, serietà, rispetto e comportamento. Capisco che i social e gli esempi artistici attuali nel mondo dei DJ, nel mondo della musica, insegnino tutto il contrario, ma la serietà, l'educazione e la cura del vostro lavoro, della vostra passione, del vostro hobby, potrebbe sicuramente influire positivamente agli occhi degli addetti ai lavori interni ed esterni. Non sapete mai chi vi ascolta e comportarsi da spacconi solo per far vedere che siete sicuri dei vostri mezzi, in realtà agli occhi di chi sta nel settore da molto tempo, vi farà sgamare subito che siete dei pivelli che vogliono mascherare l'inesperienza e la mancanza di professionalità con l'aggressività e con le chiacchie. Ovviamente valgono tutte le regole di consigli che do in tutti gli altri miei video, sia per la tecnica, per la playlist, per il marketing, per la concentrazione. Insomma, se vi guardate in giro sul canale ce ne sono di video e di consigli dati, ne troverete un sacco che vi potranno essere utili. Date una spulciata e vedrete che qualcosa imparerete sicuramente. Ma non perché le dico io ci mancherebbe, perché sono frutto di musate prese dal sottoscritto e da tanti amici ed errori fatti nel tempo perché tutti si sbaglia ed è un modo per venirvi incontro e non farvi cadere anche a voi in questi errori che sono ostacoli che poi alla lunga rallentano e a volte proprio bloccano o interrompono la crescita. Anyway, adesso ho bisogno delle vostre esperienze, delle tue esperienze qui sotto nei commenti sulla vostra prima serata live. Come è andata? Raccontatecelo qua sotto e fatelo sapere ai futuri DJ che stanno iniziando adesso. Corsi per DJ e corsi di produzione musicale potete fare tutto online con il sottoscritto, contattandomi nella sezione contact, compilando il form o tramite le nostre pagine social. Mi raccomando, info private solo per chi vuol fare corsi, lezioni e consulenze private. Oltre alla nostra pagina Facebook e Instagram c'è anche Telegram, se volete potete iscrivervi è gratis con fuori onda di Claude situazioni extra su S4 DJ vatti a vedere e iscriviti, è tutto gratuito. YouTube è il nostro canale, se vuoi puoi iscriverti, non l'hai ancora fatto? Oi 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 oi, lo puoi fare qua subito oppure abbonarti, vatti a vedere il video dove hai spiegato tutto ciò che ti diamo in cambio. Puoi anche attivare la campanella se vuoi essere informato di tutti i contenuti che vengono pubblicati immediatamente prima degli altri sul canale ma mettere anche un mi piace o condividere con i tuoi amici o colleghi se pensi che possa essere loro utile tutto questo come sostenere a S4 DJ il tuo canale preferito e ci vuoi aiutare? Ci sono diversi modi il primo è grazie qua sotto dove vedete il tasto grazie e verrà scritto nei commenti tutto ciò che vorrete donare con il vostro bel nome Pinco Pallino ha donato 0,0001 centesimi a S4 DJ oppure tramite sostieni S4 DJ cliccando qua il tasto offrendoci tutto quello che ti va che bella la prima serata da soli con il pubblico ragazzi un'emozione unica anche voi raccontatemi la vostra che sono ansioso di leggerla e commentarla insieme a voi ce ne sarebbe da dire magari ci faremo proprio una diretta o qualcosa del genere insieme a voi fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti da parte di S4 DJ e Claude vi ringrazio per l'ascolto vi ricordo l'iscrizione al canale che per noi è importantissima e fondamentale per poter crescere avere sempre nuovi stimoli a darvi di più e voi perché chiaramente crescerete con tutte queste informazioni focalizzate solamente su ciò che ti interessa ricordandovi che la vostra soddisfazione bravo è il nostro miglior premio piripiripi